Sulla festa di San Calogero interviene al dibattito Rita Monella, consigliere comunale della Lega, affermando che serviva una migliore organizzazione. Per Rita Monella la celebrazione della ricorrenza religiosa in onore di San Calogero doveva e poteva essere gestita meglio. Il disappunto maggiore è relativo alla misura eccessivamente restrittive nella gestione di una festa riguardante un santo particolarmente amato dagli agrigentini. In questo momento storico di misure adeguatamente restrittive, continua Rita Monella, si nota il paradosso degli eccessivi assembramenti in tutti i locali della città, a cui fa da controltare l'inaccettabile la particolare rigidità di azione nei riguardi dei fedeli che vorrebbero onorare il loro santo. Con le dovute misure e precauzioni, evidenzi ancora la capogruppo della Lega, si sarebbe potute trovare delle soluzioni meno invasive di quelle invece adottate. Si poteva per esempio concedere l'apertura del santuario e l'ingresso controllato dei fedeli che tanto amano venerare questo santo. Il sindaco, conclude Rita Monella, ha fatto riferimento alla volontà di scongiurare che migliaia di persone possono venire in contatto nello stesso momento. Ecco, è proprio questo che ci saremmo aspettati, un ordinato accesso al santuario con ingressi contingentati, così da permettere ai fedeli di omaggiare comunque il loro amato santo, rispettando allo stesso tempo le regole a cui tutti dobbiamo attenerci. Una migliore e più funzionale organizzazione avrebbe potuto contemplare entrambi gli aspetti, ma come in tante altre cose cui questa amministrazione ci ha abituato, così non è stato. Grazie a tutti.